Questa è la posizione dunque del Sindaco di Pesaro Matteo Ricci, ma oggi naturalmente dopo queste parole si è scatenato un putiferio, anche perché ieri sera, quindi neanche a 24 ore di distanza, a Fano si è tenuto un consiglio comunale monotematico dove era presente lo stesso Luca Ceriscioli, il Presidente della Regione Marche, che ha parlato proprio del sistema sanitario regionale, in particolare del nuovo ospedale. Con noi c'è Mirko Carloni, Consigliere regionale di Alleanza Popolare, che oggi ha detto, praticamente, quello di ieri è stato un consiglio comunale farsa perché è stato tutto deciso già da tempo. Hai così? In che senso? Allora, intanto, ascoltando questa dichiarazione che io sento adesso, è evidente che il consiglio comunale di ieri sera è stato di fatto esautorato, ed è una, questa cosa sta prendendo ormai connotati della farsa, perché neanche 12 ore dopo Matteo Ricci, e quindi il capo del PD in questa regione, dà la linea a quello che veramente vogliono fare nella sanità in questa regione. Secondo me è in modo anche inopportuno rispetto all'autonomia della regione, in particolar modo del Presidente Ceriscioli, ma soprattutto senza alcun rispetto del Consiglio Comunale di Fano, del Sindaco e di quanti in questa città fanno gli amministratori, perché è chiaro che si ha l'idea privato convenzionato, Muraglia. Matteo è nato a Muraglia, è di Muraglia, è chiaro che predilige questa scelta, come è possibile che ci sia già un piano per riqualificare il nostro ospedale, dandole ai privati, ma allora a questo punto non prendiamo in giro nessuno. Cioè, se hanno già deciso tutto quanto, quelle sei ore, sette ore di dibattito ieri sera, sono state davvero una farsa? Ma è una farsa dunque anche la sceneggiata del Sindaco di Fano che continua a insistere su un sito come Chiaruccia, che di fatto non ha mai avuto alcuna possibilità, nessuna chance di nessun genere? Era un modo solo per salvarsi la faccia politicamente? La cosa che risulta davvero strana è sentire Matteo Ricci che parla di scelte sbagliate, chi c'era fino adesso non ha detto la verità, hanno preso la direzione sbagliata. Vorrei ricordare a tutti quanti che Luca Ceriscioli era il Sindaco di Pesolo, che Matteo Ricci è stato Presidente della Provincia di Pesolo quando queste decisioni sono state prese, ma soprattutto corre l'obbligo di ricordare a noi stessi che l'assessore alla sanità degli ultimi cinque anni era Almerino Mezzolani, un uomo del PD, che è stato anche segretario del PD. Allora, questo fatto di scaricare tutto quello che è successo finora con un errore, con una sbagliata gestione, e adesso arrivano i soldi e si fa l'ospedale, mi sembra veramente qualcosa di fantascientifico. Ma soprattutto, la cosa che io ho già detto in un'altra intervista, mi auguro, e lo dico da Fanese, che il Sindaco di Fano in questo momento riesca a farsi rispettare davvero, perché quello che abbiamo visto con questa intervista e anche ieri sera un po' nel dibattito è abbastanza irrispettoso dell'autonomia della nostra città. Non possiamo diventare, secondo la ricivisione, un quartiere di Pesaro Sud. Ed è veramente mortificante. Ma in questo senso, che carta, ammesso che ci sia, che carta potrebbe giocarsi a questo punto, secondo lei, il Sindaco Seri? Ha ancora il famoso coniglio nel cappello, oppure i giochi sono veramente fatti? Secondo me ha una carta da giocare, anche perché questa conferenza stampa denota una certa arroganza, senz'altro, detta la linea, come a dire, vabbè, adesso avete discusso, adesso vi faccio vedere io che cosa si farà. Questa è la sensazione che si ha di fronte a quell'intervista di Matteo. Allora, a questo punto è chiaro che il Sindaco deve decidere il tutto per tutto in questa vicenda, perché è evidente che Fanno diventa una succursale di qualunque scelta, da adesso in poi, in avanti, per qualunque settore, non solo per la sanità. Tra l'altro mi pare abbastanza strano, perché tutto il dibattito su questo tema parla di sanità, di organizzazione sanitaria, e non è messa al centro la salute, cioè non ci sono al centro del dibattito i problemi che i nostri concittadini hanno andando al nosocomio fanese, ma non solo i fanesi, tutto l'entroterra, tutti coloro che usufruiscono del Santa Croce, che in questo momento è diventato un poliambulatorio. In modo silenzioso e strisciante si è perso nel tempo alcune funzionalità e di contro non è stata fatta quella paritetica programmazione che doveva esserci dagli impegni iniziali, che io ho detto, non ho disconosciuto all'inizio, perché sembrava un progetto di riqualificazione, eccellenza Fanno, eccellenza Pesaro. Questa è una cosa che è stata disattesa, bisogna dirlo chiaramente, ma la cosa più drammatica che emerge in modo chiaro sia in Consiglio regionale che dal Consiglio comunale di ieri sera è che Ceriscioli non ha una strategia che riguardi la salute dei cittadini. C'è una programmazione sanitaria che viene fatta talvolta dai tecnici, sotto dettatura del PD, in particolar modo di Ricci, che onestamente non sono più una garanzia istituzionale e che tutela la salute dei cittadini. In tutto questo poi sarebbe interessante sentire anche il parere di chi ci lavora all'interno degli ospedali, che immagino avranno un umore più che basso in questo momento, mentre la politica si sta interessando di sanità e i medici stanno invece facendo e vivendo sulla loro pelle tutta questa situazione. Ma prima di chiudere, prima di salutarla, volevo però chiederle, ma velocemente, per tutti coloro che vanno all'Istituto Cecchi a Pesaro, si è parlato di aprire una sede staccata anche a Fanno, poi per un attimo si è bloccato tutto, oggi è stato presentato un emendamento che è stato votato dal Consiglio. Dunque, che cosa succede? Nell'atto amministrativo di programmazione della rete scolastica, l'assessore regionale aveva detto e ho promesso il 23 dicembre che avrebbe creato una finestra per utilizzare degli spazi anche in altre sedi, anche in altre città, per quegli istituti che avevano un aumento del numero di iscrizioni. Nel nostro territorio l'aumento del numero di iscrizioni ce l'ha l'Agraria Cecchi di Pesaro e da tempo c'è una disponibilità da parte del Comune e gli altri enti a creare una sezione a Fanno della scuola agraria. Purtroppo nel testo che è arrivato in Aula, al di là del discorso Battisti che poi abbiamo risolto per fortuna prima dell'arrivo in Aula, per quanto riguarda l'Agraria è sparita ogni traccia e si è capito che da questo punto di vista la provincia di Pesaro Urbino, in modo particolare il Presidente Tagliolini, non vuole andare in questa direzione. Questa mattina l'unico emendamento presente all'atto amministrativo era quello del sottoscritto, riguardava il Cecchi. Abbiamo deciso per avere l'approvazione di questo emendamento di fare un sub-emendamento, una cosa tecnica ma importante anche da spiegare, che hanno firmato anche altri colleghi, altri consiglieri e che prevede sostanzialmente che le scuole che hanno avuto un aumento di iscrizioni possano utilizzare anche altre sedi per svolgere la loro attività senza più chiedere l'autorizzazione alla Regione. Nel caso specifico del Cecchi, se c'è la volontà forte della politica locale, del Sindaco di Fano, della Presidenza della provincia e anche dell'autorità scolastica, una sezione a Fano del Cecchi si può realizzare grazie a questa norma. Mi pare però che siano due a uno, cioè l'Istituto è d'accordo, il Sindaco di Fano è d'accordo, un po' meno Tagliolini, qui però siamo due a uno, dovrebbe essere quindi fattibile. Nella nostra funzione di legislatori noi dobbiamo preoccuparci che ci fosse una norma che lo consentisse. La norma adesso c'è, bisognerà vedere la finestra per poterlo fare. Basta alibi, se si vuole fare il Cecchi e Fano oggi si può fare.